Amico mio, Napoli è una garanzia. Prova a pensarci. Zenny, Ciro, scampia la criminalità organizzata ai quartieri spagnoli, i cori razzisti contro Koulibaly. Bro, abbiamo materiale per un album intero, giuro. Dici che andiamo sul sicuro? Bro, fidati di me. Vedi Napoli e poi fattori. Qua si svolta, bro. E i miei guaglioni hanno risposto. Speriamo bene. Noi ragazzi stiamo partecipando a un progetto Missione Inclusione per trasformare il nostro quartiere e far sì che tutti possano sentirsi parte di una comunità. L'obiettivo di oggi è quello di incontrare le persone e scoprire i luoghi più caratteristici di Napoli e renderli sostenibili, inclusivi ed accoglienti. Per questo vogliamo far sì che Khalil partecipi alla vita sociale, faccia amicizia ed entra a far parte della nostra comunità. Ciao Tommy! Ciao! Ciao! Questo è un progetto di inclusione e avevo pensato di portare i nostri nuovi amici a visitare questa bellissima città. Questa è l'occasione migliore per creare un'interocazione con loro. Maglio, ma voi non avete fame? Io mi faccio mangiare una bella pizza! Ciao Tommy! Ciao Tommy! Ciao Tommy, siamo qui con il nostro amico e stiamo raccontandogli le gesta del fantastico Pipe de Oro. Sai che qui ha fatto la storia a Napoli. Ora andiamo a giocare a pallone! Ciao! A presto! Ma scusa, ma da quando in qua i giovani si prendono cura del proprio paese? Dov'è finita la società priva di valori che pensa solo ai selfie di cui parlano sempre? Ma sì, cioè, se i giovani vanno in giro a risolvere i problemi del paese, a me artisti cosa ci resta? Esatto! Tutti pensano ai migranti, ai poveri, agli emarginati. Ma che mondo è? Però amico dai, di che cosa ci lamentiamo? Cioè, se le cose stanno cambiando forse è meglio per tutti, non trovi? Ma non crederai mica che da un momento all'altro questo paese sia cambiato? Quello no, però si sta muovendo qualcosa. Forse ci siamo sbagliati. Non ha senso che io stia qua a fare il portavoce delle sfighe. Probabilmente ha più senso che io stia qua a parlare delle opportunità che ci sono e che tutti ignorano. Alla fine abbiamo visto un'Italia diversa da quella che pensavamo. L'hai visto anche tu, no? Sì, nuovi target, nuovi messaggi. Può funzionare secondo me, può funzionare. Sì. 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 Sì.